Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi Faremo il disegno Dell'Indominus Rex Grazie ragazzi che in 2007 Avete visto quel video Allora Prendiamo il foglio E mettiamolo in qui Ecco la matita Ops sta accadendo l'aprivo La camera scusate Fammi bene Vittorio Sì ti farò bene Allora Sicuramente verrà uno schifo Come? Allora Già mi pare che è venuto uno schifo E anche a me mi pare A me non mi divide Facciamo i casi I denti facciamo Un dente Un altro dente Poi un altro ancora dente Un altro dente Forse sta venendo bene dai Che se no mi uccide sto qui Oio sto qui e c'è un nome ah Allora facciamo così Per chiudere Per chiudere Mio dio che spettacolo Forse no fa schifo Ed è pure vero Oio Cretì Che come lo faccio? Cacchio però Ce la fa Mi sembra preoccupato No vabbè ragazzi Questo disegno fa schifo Fa schifo Oh non lo sappiamo Addio Nooo Fa schifo Vai via Vai via Andiamo in nostra bezza Aspettate che butto sta carta Rifoglieremo utta Utta Sì allora Guardiamo un altro foglio Aspettate un attimo Ed ecco qui Allora Disegniamo sto utta Utta Eeeh Eeeh Utta Stai fermo Eccomi disegnami Non mi far vedere nella videocamera Che tanto non ci sta la videocamera Allora Mi metto così Muoviti Devo andare in bagno ragazzi Lo devo Come devi andare in bagno Visto Eh sì Resiste allora Fa schifo Ma che vado Qua bordo Qua bordo Qua bordo